Musica Faccia sonata, buongiorno, buongiorno a tutti Allora, 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 oggi partiamo sempre dalla cameretta perché come avete capito oggi mi alleno o almeno ci trovo vediamo se comincio a risentire di qualche dolore al collo, ma non credo perché sto molto molto meglio oggi allenamento spalle-petto a corpo libero farò degli esercizi che sono, se non erro, il pike push-up il pike hold una camminata sulle braccia il regular push-up e il taper right che è il movimento dello scrittore allenamento con delle pause variabili il tutto sarà ripetuto per il mio volume che è circa 10 ripetizioni del circuito dalle circa 470 push-up tra spalle e petto più il load che è, che sono 30 secondi di fermo quindi questo brevemente è allenamento poi devo fare veloce, devo terminare tutto in un'ora ma credo di farcela perché dopo alle 8 e un quarto passa papà mi viene a prendere e andiamo a fare una corsetta breve ci farò circa 20 minuti di fartlek dove alterno 20 secondi di corsa normale sostenuta a 10 secondi di sprint tutto qui poi si torna e si mangia finalmente gelato vi faccio vedere la video ricetta che sto postando ogni giorno su Instagram mettiamoci subito a lavoro e iniziamo ad allenarci e iniziamo ad allenarci eccoci tornati ragazzi e ora finalmente vi faccio vedere la video ricetta del gelato super super low carb, low fat, lo tutto e con proteine variabili perché io vi farò vedere che metto 10 grammi di proteine in polvere voi potete metterne quante volete in base al vostro fabbisogno quello che ci servirà sicuro ingredienti obbligatori sono frutta congelata 200 grammi cubetti di ghiaccio circa 6-8 dipende da quanto sono grandi e quanto gelato volete poi ci servirà dello yogurt total zero greco quello che volete ma credo vada bene anche il quark magro e dell'acqua credo basti così se non ricordo male poi va bene ingredienti opzionali sono proteine in polvere cannella dolcificante quello che volete io cercherò di farvi vedere sopra il gelato dato che probabilmente vi consiglio di mangiarlo subito subito come è fatto vi servirà faccio vedere io lo faccio col bimbi e vi servirà la farfalla dopo metterò dei cornflakes e del farro soffiato come topping che già ho pesato e quindi ora andiamo a fare il gelato non metterò il sottofondo musicale credo ma vi farò vedere mentre parlo un po' le varie fasi questo è il bimbi mettiamo le proteine poi mettiamo la fritta congelata 100 grammi di yogurt gracomessi ora andiamo a mettere i cubetti di ghiaccio io ragazzi vado un po' ad occhio sia col ghiaccio che con l'acqua però vi consiglio di mettere inizialmente 6-8 cubetti di ghiaccio e sui 100 ml di acqua che poi allungherete man mano ora vedrete metterò dell'acqua metterò della cannella e dell'aroma alla vaniglia che è il mio preferito ma sono tutti ingredienti opzionali tranne l'acqua ragazzi non ci resta che frullare andrò ad intervalli di circa 30 secondi 40 secondi per non so 2 minuti vediamo un po' mi regolo con la consistenza vi faccio vedere la consistenza che deve avere prima di mettere la ventola nel caso vedo che è troppo solido aggiungerò ancora dell'acqua comincia ad assumere una sua consistenza dicevo ragazzi comincia ad assumere una sua consistenza ora aggiungo dell'acqua e un altro po' di cannella che non basta mai ora ragazzi vediamo abbiamo raggiunto questa consistenza mettiamo la farfalla che ci servirà per farla arrivare fino a su dicevo vedete fino a dove è cresciuto la consistenza vi anticipo che non ci va tutto quindi vi faccio vedere velocemente come lo verso e poi lo mangio veloce veloce ragazzi taste test e poi me lo mangio tutto ne ho ancora altro nei bimbi perché non finisce mai mettiamo un po' di cannella buonissimo e super saziante fatelo anche voi e noi ci vediamo con la prossima clip eccoci qui finalmente ragazzi pomeriggio oggi giornata da dimenticare perché il Milan mi ha inculato al 97esimo io sono interista ma purtroppo va così non ci possiamo far condizionare la vita da quello che fanno gli altri ragazzi questo vale per tutte le cose argomento crudo del video sgarro pasquale oggi è sabato 15 domani pasqua lunedì pasquetta so che molti di voi sgarreranno dalla normale alimentazione perché dico voi perché io credo sgarrerò lunedì sgarrerò il motivo è semplice perché domani è pasqua sono qui a casa quindi non è che vedo il motivo perché di dire domani è pasqua così a caso sgarriamo io sgarro sempre se ci sono delle occasioni sociali delle opportunità per farlo per stare insieme con la famiglia con gli amici eccetera argomento crudo del video non ho voluto fare il video molto lungo ho voluto farvi vedere un allenamento e capire di ora il perché ho voluto farvi vedere la colazione perché è una ricetta nuova e voglio parlarvi delle soluzioni e dei consigli che posso darvi per ripartire al meglio dagli sgarri nell'evento pasquale o negli altri eventi partiamo dal pre come dicevo ieri nella diretta di instagram ragazzi i consigli che posso darvi quando avete uno sgarro sono il primo fare un breve allenamento se è un giorno off che può essere di corpo libero quindi dei push up fate una challenge una sfida contro voi stessi ci vogliono 15-20 minuti partire fate 200 push up nel minor tempo possibile è già un allenamento che potete fare in qualsiasi condizione altro consiglio che posso darvi pre è di ascoltare la fame dopo che avete sgarrato quindi se non avete fame perché avete esagerato non forzatevi di mangiare perché tanto oggi abbiamo sgarrato e continuiamo assolutamente no e altro consiglio principale sgarrate con condizioni di casa quindi sia la colomba sia il pasticcino sia la pastiera ma mangiate una fetta non mangiate non abbuffatevi perché poi i sensi di colpa arriveranno come riprendere ragazzi il consiglio che vi posso dare è non callate le calorie o i macronutrienti riprendete automaticamente a mangiare la vostra normale alimentazione bevete di più se avete accusato un po' di ritenzione bevete un po' di più i liquidi andranno via nell'arco di 3-4 giorni non fate cardio esagerato perché non serve a niente ragazzi anche se calories in versus calories out vale non vuol dire quello che bruciate non è corrispondente a quello che ne introducete questo tenetelo bene a mente anche quando fate un lavoro di cardio consiglio che vi posso dare allenatevi riprendete ad allenarvi in maniera costante non fate diete detox a caso perché come dicevo non serve a niente e non entrate in quel circolo vizioso di continuare a sgarrare nei giorni seguenti perché si pasqua si pasquetta ma poi finisce lì farò uno spuntino ora credo le solide uova ragazzi con le solide gallette niente di particolare mi mangio 2-3 finocchi perché avrei anche fame e poi noi ci vediamo penso con la cena che ancora non so cosa fare ma penso anche oggi la solita orata vediamo un po' ci vediamo dopo ragazzi continuate a vedere il video perché la cena che la vorrei fare abbastanza food pornografica food pornografica ragazzoli spero non si sente il rumore di sottofondo del bimbi comunque prima di chiudere con la mitica cena in modalità clip e food porn questo bimbi fa rumore comunque spero non si senta vi volevo dire una cosa importantissima in quanto domani chiedo apro un post su instagram chi non mi segue mi trova come Antofit Chef lascio comunque il link sempre in descrizione un Q&A quindi vorrei fare un video Q&A per la prossima settimana domani apro un post apposito su instagram quindi andate a vedere uno dei post precedenti perché questo video uscirà successivamente al post e rispondete a Q&A qualsiasi domanda sono felicissimo di rispondervi ora cena vi faccio un po' a vedere cosa andrò a preparare ah mi hanno regalato le uova ragazzi eccole qui uova per Pasqua ci devono essere sempre ne ho prese 12 e ne ho altre 12 in frigo perché non bastano mai andiamo a vedere ora la cena veloce poi partiamo con la clip fagiolini al vapore poi abbiamo pomodoro che andrà sulle bruschette gallette e orata quello è finocchio questa è la cena tanto è tutto ragazzi grazie per la visione come sempre spero che questo anche questo video vi sia piaciuto tanto quindi il finocchio partiamo con la clip e noi ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti. Grazie a tutti.